è finita, è finita, ed è finita 2 a 1 PSG Juventus ma ragazzoli prima che io inizi a dirvi la mia su questa di partita se volete supportare il mio canale lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò e infine lasciate un bel commento qui sotto dicendomi pure voi la vostra perché di certo non dico solo io la mia qua, ditemi la vostra se avete visto anche il Milan che ha pareggiato e mi dispiace per il mare che ha pareggiato perché speravo in una storia di vittoria, fatemi sapere la vostra assolutamente che vi costa, non vi costa assolutamente niente poi qui sotto vi lascio il link dei miei altri social network se vi va da 10 un'occhiata e seguitemi e grazie mille perché mi supporterà tantissimo grazie, grazie, grazie e grazie e inizierei subito ma subito ma subito a parlare di questa partita poi l'unica che ha giocato oggi è stata l'italiana, la Juventus e il Mina perché porlo poi domani ci sarà Inter, Bayern, Monaco e Napoli-Liverpool che non ho una minima idea sinceramente sul quale guarderò un po' per dirlo verrà così ma sono più diciamo affascinato la mia testa mi porta più a vedere Napoli-Liverpool sinceramente ma potrei cambiare idea da un momento all'altro sinceramente di certo non me le vedo tutte e due perché sono abituato sempre a vedere una partita e basta poi in qualche circostanza se succede qualcosa se mi tocca obbligatoriamente sarà tutta un'altra situazione ma di certo o domani Inter, Bayern, Monaco o Napoli-Liverpool ma non mi perderei assolutamente in chiacchiere e inizierei a parlare della partita ragazzuoli, primo tempo veramente male 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 sotto ogni punto di vista l'atteggiamento è stato veramente un qualcosa di come posso dirlo, un qualcosa di vergognoso quel che ha fatto la Juventus è entrata male atteggiamento non buono i primi due gol che abbiamo subito i primi due gol che abbiamo subito sono stati diciamo di certo costruiti alla grande alla grande Neymar Neymar Mbappé e poi Hakimi Hakimi Mbappé perché ha segnato per ben due volte Kylian Mbappé ma sul primo a parere mio la fase difensiva poteva fare pienamente meglio ma sul secondo che mi sono pienamente più infuriato come fai a lasciare una voragine lì perché quando è entrato Hakimi se vi andate a rivedere il pezzo della partita c'era veramente una voragine, un'autostrada un buco così un buco pienamente così dove in fin dei conti Hakimi è entrato e si è inserito per dare poi la Pala Mbappé e poi Mbappé come un fulmine da gran giocatore ma lì non mi è piaciuto l'atteggiamento della fase difensiva tatticamente posizionalmente della fase difensiva non mi sono pienamente piaciute perché perché sì mi sono pienamente piaciuto poi il primo tempo è continuato con dominio del PSG sotto ogni punto di vista ci hanno gironzolato la palla abbiamo sofferto in Aionduska pienamente sofferto per bene ma c'è stata compattezza in fase difensiva sinceramente in fin dei conti qualche errore c'è stato pure in fase difensiva abbiamo sofferto pure nella fase difensiva ma come atteggiamento nel difendere mi è piaciuto di certo questa partita poteva pienamente finire con un risultato molto molto diverso per quel che si è visto nel primo tempo ho detto grazie per fortuna neanche per lo più per fortuna sono stato veramente contento ho detto oh almeno almeno sono due gol almeno sono stati solo due gol subiti perché di certo da quel che ho visto nel primo tempo e credo che da quel che abbiamo visto tutti perché ha visto PSG Juventus il PSG poteva pienamente segnare per lo più più di due gol nel primo tempo perché abbiamo pienamente sofferto sofferto ma poi il secondo tempo è stato pienamente tutt'altro un altro atteggiamento perché di certo non parlo più di tanto del primo tempo atteggiamento sbagliato da parte della Juventus la cosa che mi ha fatto infuriare che di certo non è la prima volta lo si fa sempre e che non si va a pressare e che la Juventus non pressa ok il PSG ma comunque come cavolo fai a non pressare una squadra di caldo dovrebbe sapere sapere il significato di voler pressare pressare assolutamente che non c'è stato pienamente nel primo tempo valissimo nel primo tempo lo ripeterei 6.000 volte quando parlo del primo tempo benissimo il PSG ma grazie a Dio contento io che sinceramente il primo tempo era finito 2-1 cioè 2-0 mi sto dicendo la media rezza in quel momento visto l'atteggiamento che è stato messo dalla Juventus nel primo tempo ma poi il secondo tempo è stata tutta un'altra cosa ragazzi di felicità felicità nel gol di nel gol di McKennie sostituito con con Biretti anche lì mi ero pienamente infuriato con mio padre pure così poi in fin dei conti pur parlando con mio padre mi diceva attendo che questo segna che questo segna entra in testa e poi sono pienamente preso io la brutta la brutta di figura perché mi ho detto veramente di tutti i colori su McKennie all'inizio ma poi contro mio padre in fin dei conti ha vinto lui perché aveva ragione aveva ragione di certo la mia di frase non era non era giusta sulla sua ottimo cambio mi diceva così ma comunque parte questo che l'ho messa così l'ho detta così per fare dopo il gol c'è stato di certo il secondo tempo è stato tutto un altro atteggiamento dalla Juventus ma la cosa l'ennesima cosa che mi ha fatto infuriare che ok hai fatto questo ok che in fin dei conti hai avuto anche qualche occasione incomprensivo poche occasioni ma potevi pienamente sfruttarle ma non le abbiamo sfruttate non le abbiamo assolutamente sfruttate il tutto il tutto che c'era poi 677 anni per mettere un cross ed è questa la rabbia veramente superflua poi qua ho solo avanti a me per un attimo Marco Verratti abbiamo iniziato molto bene dopo il 2-0 la Juventus è iniziata a giocare meglio sapevamo le loro qualità e che bastava poco per riaprire la Juve è una squadra che lotta fino alla fine e ha fatto un buon secondo tempo e di certo queste sono parole ben giuste ben giuste primo tempo malissimo secondo tempo bene ma 6.000 anni per fare un cross nel finale veramente atteggiamento schifoso atteggiamento schifoso per muovere il pallone veramente vedo in alcune situazioni Danilo 10 secondi 10 secondi col pallone al piede veramente una lentezza stratosferica e di certo si dovrà pur migliorare su questi punti di vista per poter fare un buon cammino in Champions League perché stai perdendo non ci sono stati i lanci lunghi per Vlaovic o così non ci sei pienamente provati ricordo una bellissima palla di Paredes che lui rabbio hanno fatto pienamente una bellissima partita una bellissima partita peccato che rabbio quando è stato sostituito perché mi sono pienamente che infuriato sinceramente e mette ancora di sciglio un casino poi sono miretti sono pienamente d'accordo perché aveva preso giallo ma che potrei aggiungere non aggiungere pienamente anzi si pienamente che altro che sono l'ultima cosa l'atteggiamento della Juventus di certo è stato un migliorarsi nel secondo tempo ma si poteva pienamente fare meglio potevamo ne potevamo uscire con un risultato migliore almeno si poteva pienamente fare per lo più più di un gol sinceramente ma ma dai di certo non dico che pensavo peggio perché in fin dei conti ero fiducioso sinceramente ero pienamente fiducioso nonostante l'avetevo difficile ma ero pienamente fiducioso di vedere un buon atteggiamento della Juventus che lo è stato nel secondo tempo ma si lo è stato facendo un buon secondo tempo ma si poteva fare pienamente meglio dicevo lo ripeterei 6.000 volte gli attaccanti sono stati pienamente archiviati isolati lì l'arbitraggio non mi è tanto piaciuto nonostante ha fatto scorrere Neymar veramente uno scandalo assurdo lo tocchi prende un volo e Mbappé ma in primis Neymar sinceramente poi nient'altro nient'altro lì ha Mbappé Neymar Messi di certo Mbappé poteva pienamente segnare una tripletta e nonostante il tutto ok che la Juventus poteva pienamente fare meglio nel secondo tempo ma l'atteggiamento mi è pienamente piaciuto a testa alta bravi ragazzi non sono pienamente che tanto incavolato ma pochino sì per quello che si è visto nel secondo tempo ed è tornato McKennie ma comunque poteva pienamente andare peggio visto le occasioni che ha avuto il PSG in complessivo e non li ha sfruttate Mbappé Mbappé che voleva segnare tripletta e Messi col tiro il giro che lì ho preso veramente un colpo al cuore perché so quando fa quei tiri il giro niente il portiere deve stare solo così ho bocca aperta ho bocca aperta sinceramente è grandissimo per il grazie per il I love you per la paratona che hai fatto su Neymar grazie grazie per il semplicemente un portiere fortissimo nonostante potevi fare meglio nel primo tiro di Mbappé a mio di parere vedendo qua dalla tv di certo vedo parere dalla tv poi tu sei in campo tutta una situazione ma comunque grazie 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 per il grazie tantissimo e non aggiungerei altro sinceramente la formazione mi è pienamente piaciuta non hanno tutti brillato sinceramente ma di certo lo dirò domani lo dirò domani e mi posto un video buona fase difensiva sinceramente va bene nel secondo tempo è già ripetuto pienamente il tutto che volevo ripetere sinceramente stop stop fine del discorso PCG ha avuto le sue occasioni nel secondo tempo ma non aggiungerei altro basta un saluto e un'ultimissima cosa poi basta e poi basta Ken De Sciglio una rabbia veramente nella media testa indescrivibile in primis su Ken ancora entra su questo qui assurdo un grandissimo saluto un grandissimo abbraccio e ci becchiamo al prossimo video e fino alla fine Forza Juventus poteva andare meglio potevate fare meglio nel secondo tempo porca miseria fatto così per fare un grandissimo saluto un grandissimo abbraccio e alla prossima di certo con il video pagelle bravo rabbio complimenti ciao ciao saluto